Tutto pronto al Palabarton di Perugia, dove questa sera, con fischio di inizio alle 19, prendono il via ai play-off di Superlega. La Sir affronterà nei quarti l'Allianz Milano, che ha avuto la meglio su Verona in gara 3 dei preliminari. I ragazzi di coach Roberto Piazza hanno svolto questa mattina la rifinitura sul Taraflex di Piani Massiano. Poi è stata la volta dei Block Davids, pronti a rituffarsi nel campionato dopo gli impegni di Champions League. Tutti a disposizione del tecnico Einen, che dovrebbe comunque confermare la formazione abituale, con Travizza in diagonale con Der Horst, Ricci e Solea al centro, Leone Plotninsky in banda e Colaci libero. Anche Piazza, coach di Milano, dovrebbe confermare la squadra vincente nello spareggio con Verona di sabato scorso, con Sbertoli al palleggio, Patry opposto, Cosa Mernic e Matteo Piano centrali, Ishikawa e Urnaut schiacciatori e Pesaresi libero. Grazie a tutti.